Cosa è stato deciso? La Ministra Sant'Anche sarà in Senato mercoledì prossimo alle ore 15 per un'informativa. 5 luglio? Sì, mercoledì prossimo. Sì, 5 esattamente. Ringrazio la Ministra Sant'Anche della sua disponibilità perché non era tenuta questa informativa a fronte di un caso che si è creato soltanto al momento per una questione legata a una trasmissione televisiva. Quindi la ringraziamo sulla disponibilità. Viceversa, il Governo ha ritenuto non accoglibile la richiesta dell'opposizione di sottoporre la Ministra Sant'Anche a un po' di fila durante il question time. Era un'ipotesi che abbiamo rigettato. Primo perché il question time era già definito con la presenza di altri ministri, Nordio e Bernini. In secondo luogo perché il question time richiesto dell'opposizione si sarebbe trasformato in un tiro al bersaglio contro il Ministro perché il question time è strutturato in maniera tale che l'interrogato è sempre in posizione di difficoltà subalterno a chi interroga. Quindi abbiamo rigettato questa ipotesi e l'informativa mi pare lo strumento più adatto per consentire alla Ministra di spiegare e a tutti di poter intervenire. Con diretta la visita o no? Non è stata chiesta? No, non è stata chiesta. Ministro, ma metterete la fiducia sul DL Enti? Sì, domani inizia il dibattito domani mattina e poi alla fine del dibattito la fiducia. Poi si incrocerà con la presenza della Presidente Meloni che verrà a consegnare la relazione dalla Camera in attesa poi di fare le repliche nel pomeriggio. Quindi però ci sarà il voto già domani, immaginate, scusi solo per il decreto? Il decreto, sì, sì, domani tarda mattina. Oggi quindi nulla in aula? Adesso fanno le risoluzioni e le ratifiche di trattato internazionale. Ah, d'accordo. Grazie. Per la Santa Ancheco non credete di trovarvi di fronte a un precedente unico per questa cosa di una trasmissione? Allora, se per ogni trasmissione... No, ma è un dubbio che mi è venuto a me. No, ha ragione. Infatti il Presidente del Senato ha ribadito che non si tratta di un precedente, si tratta di un'eccezione dovuta alla disponibilità della Ministra che in assenza anche di una mozione di sfiducia o comunque di un altro lato parlamentare ha dato la disponibilità a un'informativa, non costituisce un precedente e quindi questo è stato chiarito molto nettamente dal Presidente del Senato. Grazie. Per almeno domani al Senato ha richiesto la diretta televisiva o no? Non lo so, non credo, non mi risulta. Non avete parlato di Commissione Orlando in aula? In Capitruppo? Sì. No. Ok. Grazie. Invece mi ha visto che in CDM hanno altri due DL. Lo scopriremo alle ore 18. No, diciamo che è l'ordine del giorno questo reggita. Sì, però alle ore 18 discuteremo di questo. Ah, ok. Quindi non avete stabilito, cioè aspettate la prossima Capitruppo per definire di mandare in aula la Commissione Orlando? Perché oggi credo abbiano dato forse mandato... Sì, perché ormai il calendario di questa settimana è già pieno, probabilmente con la prossima. Senta, danneggiamento. Abbiamo detto che è un'ordineamento ben culturali che hanno concluso il lavoro in giustizia. Quindi non c'è un'ordineamento. Se è concluso lo metteremo tra le liste di cosa fare urgente. Oggi diciamo non ne avete mai avuto la conferenza di tutti. No, oggi è stato concentrato su questo. La prossima settimana, peraltro, qui non sono previsti i lavori di aula, vero? È confermato questo oppure no? No, sono previsti perché c'è la informativa della... Mi perdoni, ad eccezione, certo. E probabilmente ci sarà anche il questionario. Quindi probabilmente si lavorerà questa settimana. Perfetto. No, sì, è ovviamente l'informativa... La coda di quello che non si riesce a fare oggi e domani. Perfetto, grazie. Grazie Ministro, grazie tante. Allora, anche ora alle 15 con discussione perché non tutti i gruppi dell'opposizione erano convinti che dovesse venire. Lei ha specificato in capigruppo che questo non deve essere considerato un precedente. La cosa importante è che è un invito senza che questo costituisca un precedente ma è rimesso alla discrezionalità del Ministro anche quella di decidere se vuole entrambi i rami, un solo ramo, come vuole. Nera mai capitato un caso del genere che per una data... No, però un caso simile c'è stato e quello della Ministra Boschi. Ah, ok. Grazie. Allora, Presidente Boccia, il Ministro Santanchè verrà a riferire mercoledì di 5 luglio. Sì, noi avevamo chiesto per la verità risposte puntuali a temi puntuali che sono anche oggetto di un'interrogazione urgente che il Partito Democratico ha depositato venerdì a prima firma Misiani, sottoscritto a tutto il gruppo perché qui non si tratta di fare processi in piazza ma di essere rigorosi, trasparenti, inosequo anche del giuramento fatto e per questa ragione ci aspettavamo una risposta del Governo, un'interrogazione urgente Misiani che è molto puntuale e non fa riferimento solo a inchieste giornalistiche, ma fa riferimento a una serie di fatti non pugnabili che sono allegati a bilanci pubblici delle imprese. Per questa ragione avevamo chiesto risposte puntuali a domande puntuali che il Partito Democratico ha posto e questo era possibile ed è possibile con gli strumenti sindacato ispettivo che noi abbiamo proposto o con il question time, ma il Governo non è stato d'accordo e ora ci sarà un'informativa mercoledì al Parlamento certamente qui al Senato, non sappiamo se anche alla Camera, ma quello che deve essere chiaro è che noi chiediamo chiaramente rispetto a tutti i punti controversi che sono sotto gli occhi di tutti. Segnaliamo, questo è un altro tema, che troviamo molto imbarazzo nella condizione in quel Parlamento perché anche oggi è arrivato un decreto importante come quello con il quale questo Governo ha con un tratto di penna cancellato i vertici di IMSS e INAIL Il decreto ENTI? Certo, che però è un decreto che ha cancellato i vertici di ENTI che avevano lavorato molto bene, tra l'altro e oggi questo decreto è arrivato a mezzogiorno, è stato unilateralmente deciso un termine di ammendamenti di due ore questa cosa l'abbiamo trovata inaccettabile Il Governo non riesce, nonostante dicano di avere una maggioranza coesa, non riescono nemmeno a fare una discussione seria perché hanno annunciato la questione di fiducia che sarà posta domani e purtroppo il Parlamento è diventato un passacarte di un Governo che è diviso su tutto e questa cosa la troviamo inaccettabile Ecco, sulla Santa Anchea è stato specificato che questa informativa del Ministro non può rappresentare un precedente e poi vi riservate, dopo aver sentito il Ministro, di dare vita ad altre iniziative come una mozione di sfiducia individuale? Di questo dipende veramente dalle risposte Noi abbiamo presentato un'interrogazione urgente molto puntuale che non segue né i binari del giustizialismo connesso a vicende giudiziarie che non conosciamo e che seguono il loro corso e né segue una modalità, diciamo, sensazionalistica che trasforma un'inchiesta giornalistica seria ma in un atto parlamentare No, noi chiediamo la verità e chiediamo che questo approccio di rigore e trasparenza sia un approccio che il Governo debba utilizzare su ogni cosa Siccome i Ministri giurano sulla Repubblica e lo fanno impegnandosi con onore e disciplina a rispettare la Repubblica italiana vogliamo una risposta per ogni punto della nostra interrogazione e ci auguriamo che questa cosa avvenga e che si chiarisca questa storia in maniera molto trasparente se non dovesse essere così valuteremo tutte le opzioni possibili e alternative Grazie Presidente, grazie a Francesco Boccio